Devozionale numero 6. Il pubblicano. Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui ed egli insegnava loro. E passando vide Levi figlio d'Alfeo seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli alzato si lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa sua molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei vedutolo mangiare con i pubblicani con i peccatori dicevano ai suoi discepoli come mai mangia con i pubblicani e i peccatori? Gesù udito questo disse loro non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori. Marco capitolo 2 versi da 13 a 17. L'episodio che ha dato origine all'insegnamento di Gesù che il vino nuovo che vedremo la prossima settimana deve essere messo in otri nuovi è quello in cui nel nostro testo Gesù come ha chiamato i primi discepoli chiama anche una persona che secondo la mentalità dell'epoca era esclusa completamente dalla salvezza un pubblicano cioè l'esattore delle tasse. Si tratta delle persone ritenute impure perché essendo un mestiere che favoriva l'imbroglio erano considerati dei ladri di professione poiché al servizio di erode antipa e quindi funzionari in qualche senso del dominio pagano erano considerate delle persone immonde. I pubblicani sono individui che anche se un domani si pentissero e ci fosse la conversione non si potrebbero assolutamente salvare. Ecco Gesù chiama al suo seguito una di queste persone. I Vangeli hanno tutti lo stesso messaggio ma lo formulano in maniera differente. Nel Vangelo di Matteo questo pubblicano si chiama Matteo nel Vangelo di Marco si chiama Levi di Alfeo ma è un unico personaggio che Gesù chiama. Perché questi due nomi diversi? I nomi sono diversi ma il significato che l'evangelista vuol dare è identico. Matteo in ebraico mattatia significa dono di Dio. Cioè la chiamata di Gesù non è frutto dei meriti dell'uomo. Guarda quanto è buono, guarda quanto è bravo, guarda quanto è santo. Ma è una concessione gratuita dell'amore di Dio. Gesù chiama al suo seguito una persona indipendentemente dai suoi meriti. Lo stesso Levi di Alfeo perché il nome Levi richiama una tribù che era stata esclusa dalla spartizione del regno di Israele. Era la tribù rimasta senza terra. L'evangelista vuol quindi far comprendere che quelli che la religione o la morale esclude dall'ambito di Dio, quelle persone che non possono o non vogliono vivere in comunione con Dio, sono quelli per cui arriva la chiamata come dono gratuito da parte di Dio. Gesù chiama un peccatore ufficiale, un peccatore conosciuto e gli dice di seguirlo. Questo lo segue e se Gesù fosse stato una persona religiosa a questo peccatore che ha passato tutta la vita nel peccato, per prima cosa avrebbe detto adesso vai a fare una settimana di campeggio o di ritiro e ti purifichi, ti penti, digiuni, preghi e poi ti concedo il perdono del Signore e vieni a far parte del mio gruppo. Scrive invece l'evangelista al verso 15 e avvenne che mentre egli era sdraiato a mensa in casa sua, Gesù nel Vangelo di Marco, fin dalle prime battute, è la manifestazione visibile di Dio. E la prima cosa che fa Gesù, chiamando un peccatore al suo seguito, la prima volta che Gesù, cioè Dio, si imbatte con un peccatore è fare un pranzo. E qui c'è qualcosa che fa traballare i fondamenti della religione. Ma se è così non c'è più religione. Era stato insegnato che il peccatore doveva fare delle penitenze, doveva purificarsi, doveva temere questo giudizio di Dio. Prendiamo i salmi. Il salmista dice se Dio sopprimesse tutti i peccatori. Si credeva che quando sarebbe arrivato il Messia avrebbe eliminato fisicamente i peccatori. Invece Gesù chiama un peccatore al suo seguito e la prima cosa che fa è dire facciamo un bel pranzo. Quindi cambiano completamente i parametri dell'incontro di Dio con l'uomo. L'uomo peccatore temeva l'incontro con Dio e invece l'incontro con Dio da parte dell'uomo peccatore non deve essere più temuto perché è una fonte di allegria. Di fronte all'uomo che vive nel peccato non ci sono minacce, rimproveri da parte di Dio, ma un pranzo. Perché? Perché il pranzo? È importante questo fatto del pranzo. In Oriente, ancora oggi, si mangia tutti in un piatto comune e il mangiare in un piatto comune, stesso piatto, significa condividere la vita, si festeggia la vita. La vita di Gesù viene comunicata a quest'uomo. Un po' come facciamo anche noi nella nostra società, che non c'è festa che poi non si risolva con un pranzo, perché il mangiare insieme significa comunicarci e arricchirci della vita. Gesù la prima cosa che fa è chiamare questo peccatore e invitarlo al pranzo. Qui l'Evangelista è ambiguo e questo casa sua non si capisce se è la casa di Gesù o la casa di Levi del peccatore, ma l'ambiguità è voluta perché vuole far comprendere che quando uno passa al seguito di Gesù, la casa è di entrambi. Notate un particolare, dice letteralmente era sdraiato a mensa. In quell'epoca, durante i pranzi festivi, si mangiava su dei lettucci sdraiati e in particolare si faceva nella notte della celebrazione pasquale per ricordare la liberazione. Ma chi poteva mangiare sdraiato sul letto, soltanto i signori che avevano delle persone che li servivano. Gesù, quando invita qualcuno al suo seguito, non lo tiene in una condizione di sudditanza, di sottomissione a lui, ma gli dà la sua stessa dignità. Gesù, il Signore, quando chiama le persone al suo seguito, non stabilisce una distanza. Io sono il Signore, tu sei un fedele, ma il Signore invita le persone per innalzarle al suo stesso livello. Quindi è finita l'ubbidienza, è finita la legge come mezzo di rapporto con Dio, perché ora c'è una comunicazione d'amore. Chi veramente ama non mette delle differenze con colui che viene amato, ma chi ama si fa e ce la mette tutta perché l'amato raggiunga il suo stesso livello. E cosa succede? Succede che queste sono le notizie che la gente aspetta, c'è il tam-tam, scrive l'Evangelista. Molti pubblicani e peccatori si adagiarono a mensa con Gesù e i suoi discepoli, infatti erano molti che lo seguivano. Ecco l'esodo iniziato da Gesù, che è venuto a liberare le persone da una istituzione religiosa che manteneva la gente sotto la sfera del peccato, rivendicando poi, soltanto a se stessa, la capacità di perdonarlo. L'amore di Gesù si comunica ad ogni persona. Allora c'è l'esodo, quello vero. La gente incomincia a seguire Gesù. Molti entrano in questa casa, partecipano a questo banchetto. A noi, lontano da questa mentalità, non fa orrore tutto questo, ma era gente conosciuta come peccatrice, era gente conosciuta per essere composta da miscredenti, e loro si mettevano a tavola con Gesù. E infatti succede lo scandalo. Allora gli scrivi e farisei, vedendo che mangiava con i peccatori e i pubblicani, dicevano i discepoli, perché mangia con i pubblicani e i peccatori il vostro maestro? Gli scrivi, cioè i teologi e i farisei, quelli che osservavano tutte le prescrizioni della legge e che credevano di essere graditi a Dio nella misura delle osservanze praticate, insinuano il dubbio nei suoi discepoli. Vanno dall'anello più debole e dicono, vedete, Gesù non è un maestro spirituale serio, guardate cosa fa, mangia con i peccatori. Conoscevano tutti l'espressione che si adopera anche in italiano, hai mangiato nel mio piatto? Mangiare nel piatto di una persona significa piena intimità, piena confidenza. Se si mangia tutti in un piatto, questi che sono impuri intingono la mano nel piatto, tutto il piatto diventa impuro, e tutti coloro che mangiano dentro diventano impuri. Questa è la teologia della religione che viene insegnata dagli iscrivi. Così vanno dai discepoli e dicono, come fate a seguire Gesù che è impuro? Perché mangiando con i peccatori anche lui diventa impuro. Avendo udito questo, Gesù disse loro, non sentono bisogno del medico quelli che sono forti, ma quelli che stanno male, non sono invenuto ad invitare i giusti, ma i peccatori. Questa espressione è importante ed è l'insegnamento di Gesù che fa la differenza tra religione e fede. La religione, nella sua perversione, fa sì che gli ammalati non possano ricorrere al medico se non quando sono guariti, cioè quando inutile. Questo fa la religione. Questo anche purtroppo è un atteggiamento che si è infiltrato nella spiritualità cristiana. Quante persone che vivono situazioni che la religione, la morale o la società condanna come insensate, inesatte, negative, peccaminose, vengono impedite di avvicinarsi al Signore perché dicono loro, sei in peccato? Non puoi avvicinarti al Signore. Sei impuro? Non puoi avvicinarti al Signore. Perché per avvicinarsi al Signore occorre essere puri. E Gesù cerca di far capire la stupidità di questo ragionamento. Chi di voi, quando è ammalato, dice, hai chiamato il dottore? No, adesso. Quando sto bene, lo chiamo. Quando sto bene, è inutile chiamarlo. Ma chi di noi, quando è ammalato, se gli si chiede, hai preso la medicina? Risponderebbe, no, perché sto male. Quando prendi allora questa medicina? Quando stai bene? Purtroppo questo insegnamento perverso della religione, il lievito dei farisei, come lo chiama Gesù, ha talmente inquinato la spiritualità cristiana che ancora oggi abbiamo delle persone che evitano di avvicinarsi al Signore perché sanno di essere impure. Ma è proprio perché sono impure che devono avvicinarsi al Signore.